Buongiorno, sono in montagna, sono in vacanza. Oggi da questa bella location volevo suggerirvi la nuova pagina del journal di questa settimana. Si intitola Quando osare è un'esperienza unica. Eh sì, ogni tanto bisogna osare. Spesso l'estate ci favorisce queste esperienze un po' fuori dalla nostra vita ordinaria. Spesso si fanno nei posti di vacanza. Come è capitato a me che ero in vacanza al mare la scorsa settimana e ho osato prendere a noleggio una barca motore e sprecciare un po' sulle onde dell'Adriatico per un'oretta. Senz'altro mia figlia è stata determinante in questa scelta, però è stata un'esperienza bellissima. Ogni tanto, insomma, lanciamoci in qualcosa che non appartiene al nostro ordinario perché questo ci darà tanta carica di adrenalina e poi ce la ricorderemo anche durante il lungo inverno o anche proprio la potremo raccontare. Altrimenti, cosa racconteremo da vecchia ai nostri nipoti? Usiamo dunque una nuova pagina del journal. Buon lavoro!